Ehi, ciao! Se è la prima volta che stai guardando un mio video e noti che ti piace, ti invito a iscriverti e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Buona visione! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Magic e oggi ragazzi siamo tornati sul Minecraft! Allora ragazzi, dobbiamo continuare il nostro magazzino che come vedete, come vi avevo detto off camera, ho continuato le mura e ho fatto anche un po' il pavimento perché voi nei commenti mi scrivete di tutto e di più tranne quello che vi chiedo, quindi a volte penso che non ci capiamo. Comunque nessun problema. Prima di iniziare vi ricordo tutti i link in descrizione, quindi seguitemi su Instagram e intanto nel gruppo Telegram e sono davvero contento ragazzi di come è andato il sondaggio su Instagram della nuova serie. Vi auguro buona visione! Allora, come dicevo, visto che non mi scrivete mai quello che vi chiedo, il pavimento ho deciso di farlo così, anche perché mi piace il contrasto che fa. Allora, oltre a questo oggi andremo ad aggiungere altre 4 persone al nostro giardino degli iscritti, quindi non perdetevelo, vediamo chi saranno i fortunati di oggi. E qua ragazzi stavo pensando se effettivamente mettere i gradini qua, come vedete ce li ho già pronti, una roba tipo del genere, vi faccio vedere veloce, così, vabbè tranne quello, non fateci caso. Non so se fare i gradini, come appunto la nostra casa degli obiettivi, che vedete ci sono i gradini così, oppure semplicemente togliere i blocchi sotto e metterci gli stone bricks, il blocco di stone bricks, così sotto e anche sopra. Comunque è una cosa che andrò a decidere adesso in questo episodio, vediamo pian piano, così non mi dispiace, secondo me fa molto effetto, anche perché il tetto poi volevo farlo anche lì, sempre in stone bricks, però con i gradini. Quindi secondo me può fare un bel effetto, adesso poi comunque vedrò. Lì ho raccolto prima il grano che era cresciuto tutto, infatti ne approfittiamo, andiamo anche a farci i nostri bei panini, e vado a prendere un attimo la legna per finire il pavimento. Dovrebbe bastarmi questa qui che avevo a casa, in teoria, speriamo, se no vabbè niente, andrò a rompere qualche agnetto, tanto ci serve a prescindere perché facendo questo lavoro qua, quello che avevo a casa l'ho finito praticamente tutto, ma si vede già che non mi basta, perché mi mancano 18 pezzi, no, non mi basterà mai, forse è di pochissimo, ma non mi basterà mai. 5, 1, 2, 3, 4, 5, ma no ragazzi c'è per un blocco io non ho parole, questa è sfiga, ecco, questa chiamasi sfiga. Oggi stranamente mi sta dando qualche problema Minecraft, perché registro e mi lagga un po', cioè non è che mi lagga, si frizza proprio, addirittura prima stavo registrando e mi è crashato, perché avevo registrato che avevo già messo tutto questo pezzo del pavimento, però mi è crashato totalmente Minecraft, quindi ho dovuto rifare la registrazione. Però non è un problema, avevo fatto solo quello, niente di più, niente di meno. Ora, devo anche andare a scrivere nuovi obiettivi, ma quello mi sa che lo faremo in un prossimo episodio e sono contento perché me ne avete lasciati altre, continuate a lasciarmene qua sotto nei commenti e ricordo, per chi fosse nuovo, perché ho visto che ci sono nuovi iscritti, quindi vi do il benvenuto, se volete anche voi apparire nel giardino degli iscritti, vi basta scrivere hashtag iscritto qua sotto nei commenti. Allora, 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 dovrei fare anche lì, quindi la legna alla fin fine mi serve a prescindere, ma andrò poi a prenderla. Stavo pensando, stavo pensando ragazzi, il pezzo fuori. Lo facciamo allora coi gradini, ma penso di sì, sapete? Perché tutto in Stormbricks, anche se così, così, ma sapete che mi è venuta un'altra idea, tanto poi le finestre ci vengono sicuro. Quindi adesso facciamo così, andiamo a prendere le misure delle finestre, anche se poi ci saranno le ceste, ma non penso che diano fastidio. Farei una finestra così a 4, che secondo me ci sta molto bene. Qua fammi vedere di quant'è, 1, 2, 4, quindi facciamola qua centrale, quindi 1 e 2, così, niente di più, niente di meno. E lo stesso di qua, 4, quindi, no, non è vero, perché qua c'è il muro che fa così, quindi dovremmo fare così, anche là ho sbagliato infatti. Adesso andrò a riparare, qui è da 3, prendiamoci la cobblestone, mettiamola qua e facciamo così. No, no, ma porca vacca, porca vacca, mannaggia a me, mannaggia, quindi, facciamo così, perfetto, prendiamo la pietra che c'è dentro e qui dovrebbe già essere più o meno, ok. Ma allora, o sono scemo io, o Minecraft mi sta prendendo per il culo, così, e togliamo questo qua, così, ma molto probabilmente sono scemo io, ragazzi. E quindi verrebbe così, però fighi, sta malissimo, perché è giusta perlomeno, qua, qua, eh sì che è giusta, qua perché c'è quello, vabbè. Allora, sapete cosa facciamo? Perché a me, davvero, non piace, sennò poi è bruttissimo. Qua la lasciamo da uno, così, perfetto. Di qua tanto non c'è niente, c'è una collina. L'importante è che vediamo di qua e vediamo di qua, che tanto poi, ripeto, ci saranno davanti le casse, quindi rimarrà da uno anche qui. Guardate che precisione, era tutto studiato, ragazzi, tutto perfettamente studiato. Poi, vabbè, farò le altre finestre poi, adesso non mi interessa particolarmente, era solo per vedere come venivano. Qua è giusto? Sì, almeno lì è giusta. Allora, vediamo quanti me ne vengono fuori, gli Stormbricks, me ne vengono fuori esattamente pochi. 42, non so se mi bastano per tutto il perimetro, ragazzi. Noi intanto ci proviamo, perché voglio anche vedere come ci sta. Facciamo così, dobbiamo togliere tutti questi, però giusto per vedere un attimo come risalta all'occhio. Secondo me è un po' meglio dei gradini, e non sono inutili, li ho fatti, non sono inutili, ragazzi, perché comunque dovremmo farci il tetto. E vediamo come ci stanno questi qua, così. Mettiamo via i semini, e facciamo così, tac, tac, e vediamo un po', eh. Che, ecco, continuo a sbagliare, io non ho parole. Sì, no, secondo me è decisamente meglio che i gradini, che effettivamente poi sporgono troppo in fuori, e magari poi rovina la costruzione. Quindi direi che va bene così. Stava facendo notte, ragazzi, io direi andiamo a dormire, onde evitare di far spawnare mob, che, se mi distrugono tutta la costruzione, guardate, giuro che elimino Minecraft. Ok, si bugga un po', perché per sbaglio ho messo il blocco. Non so, mi scappa sempre il dito, ragazzi, e continuo a mettere il blocco. Ok, facciamo così, e dobbiamo andare un attimo nella nostra miniera, perché effettivamente ho finito il carbone, e devo mettere a cuocere un po' di cobblestone, perché mi serve la stone per poi fare gli stone bricks. Quindi, andiamo in miniera, e vi faccio anche vedere a che punto sono. Ed eccoci qua. Questo qua è il piano che abbiamo fatto insieme, che mi piace un casino, ragazzi. Qua vediamo, ah, qua stavo facendo il ferro, e vediamo solo, sì, ho dell'or, azze, però 12, 12 ci bastano per la chestplate, però 12 figli, volevo tenermeli, effettivamente. Vabbè, ma abbiamo qua la miniera, magari poi li ritroviamo. Vi faccio vedere a che punto sono. Questo qua è il primo piano, questo qua è il secondo piano, ancora tutto da finire, come potete vedere. Uh, carbone, vabbè, adesso lo lasciamo lì. E poi, da questa parte, esatto, c'è il terzo, che devo proprio ancora, lo stavo iniziando, come vedete, ho fatto solo i contorni, qua e qua in fondo. E poi, vabbè, lo continuerò pian piano. Mettiamo una torcia qua per sicurezza, prima che arrivo, e un'altra qua. E mi trovo i mob davanti, lì, in mezzo incastrato, ci muoio sicuro. Qua, 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 cosa? Ah, questa qua è la prima galleria, l'ho fatta per prendere le misure. E, e niente, poi dovrò comunque prendere altre diorite, dovrò prendere altro granito. Eh, qua c'era altra, eh, cobblestone per fare la stone, mannaggia a me, l'ho tolto là, ok? Eh, e qua ci sono appunto le nostre. Qua c'era la nostra grotta, eh, che non c'era niente. Uh, guardate qua quanto granito. Beh, il granito non sarà un problema. Qua c'è della diorite, e mi ricordo che c'era della diorite anche di là, se non mi ricordo male, ragazzi. Comunque, penso che non sia un problema, anche se a casa non ho ancora davvero tanta di diorite levigata. Vabbè, intanto che qua si fa, questi me li porto via più che volentieri, e torniamo a casa. Mettiamo a cuocere sia l'oro che la stone, a sto punto, ragazzi. Qua dove, eh, ok, qua c'erano già un pezzo. E qua, eh, mettiamo questa, e me ne mettiamo, eh, 8, 16, 24, 30, 30. Mettiamone 3, eh, con quello che è partito 4. E qua ne abbiamo già 1, 2, 3, e ci mettiamo a cuocere il nostro ferrino. Non ho messi 3 allo stesso, anche se ne servivano, eh, semplicemente 2. Facciamo così, voglio vedere se ho qualcosa che potrebbe interessarci, ma non mi pare. Come vedete, la diorite levigata ce l'ho qua, qua, quindi per i piani della miniera non è un problema. Abbiamo 6 diamanti, qua abbiamo ben, quasi uno stack di ferro. Eh, bene, interessante, non siamo messi malissimo, ragazzi. Interessante, interessante la cosa. Eh, cosa che mi serviva? Niente, devo aspettare che qua c'è la pietra. Intanto che i nostri materiali cuociono, ragazzi, io direi, andiamo a mettere le 4 persone nel nostro giardino degli iscritti. Passiamo per la nostra stradina tutta floriale, bella, bella, bella. E allora, allora, i 4 di oggi che verranno inseriti nel nostro giardino sono, sono, sono. Iniziamo innanzitutto a prendere i cartelli, se no non posso scrivere niente. Eh, quindi, il primo è Andrea Pegasus 04, quindi facciamo così, Andrea Pegasus 04. Perfetto, ah, Andreas, ok, perfetto, ho corretto, e via, Andrea Pegasus, nuovo nel giardino degli iscritti. Poi c'è Simpli, ciao Simpli. Simpli, perfetto, e facciamo anche il faccino, che lui ha sempre il faccino, così, perfetto, fatto. E l'ultima persona, no, le ultime 2 persone di oggi sono Chiara, e facciamo Chiara, facciamo Chiara C, perché ci sono diverse Chiare. Lei è Chiara C, e poi c'è Francesco D'Amore. Perfetto, e questi sono i nuovi iscritti nel giardino degli iscritti. Se puoi gioco di parole, non so proprio cosa dire, mi ho bloccato un attimo, ragazzi, non li so nessuno. Comunque, Chiara, Francesco, Simpli, Andrea, e, vabbè, Mylene è dell'altra volta, e basta, loro 4, perfetto, top. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se volete essere inseriti anche voi, continuate a lasciare sotto, scritto nei commenti, hashtag iscritto. Lo dico soprattutto per i nuovi. Allora, andiamo a vedere se ha finito la nostra bellissima roccia, almeno la maggior parte. Oh, allora, qua abbiamo il nostro oro, e direi, senza pensarci minimamente, andiamo immediatamente a fare la nostra chestplate, e, boom, perfetto, ragazzi. Obiettivo completato, e perché no, ce la indossiamo anche per questo episodio. Guardate che carini che siamo, mamma mia, proprio elegantoni, eh. Allora, ho visto che un po' me l'ha fatta, effettivamente. Vediamo quanti altri blocchi mi vengono, altri, ok, sono a 36, direi che per il momento dovrebbero bastarmi per finire il perimetro sotto, i 36 blocchi. E penso di sì, e quindi andrò a fare proprio quello. Bene, ragazzi, possiamo dire che è quasi, quasi finito tutto l'esterno del nostro magazzino. Comunque, vabbè, il tetto lo finirò off camera, devo solo aggiungere gli slab. Tutto il resto è finito, ho fatto qua, ho fatto là, ho fatto dall'altra parte, e bla bla bla. Faremo l'interno in un prossimo episodio, e andremo ad aggiungere anche i nuovi obiettivi in un prossimo episodio. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, e spero che sia davvero così. Condividete, per far conoscere comunque il canale, i miei video, e per aiutarmi comunque a crescere un po', vi sarei davvero molto grato. Mi raccomando, se sei iscritto e vedi che i miei video ti piacciono, ti invito a iscriverti, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie della visione.